Monte Corvino Rovella, un borgo tra storia e fede. Immerso nel verde cuore della campania, Monte Corvino Rovella è un borgo che respira storia e tradizioni. Le sue antiche origini si percepiscono passeggiando tra i vicoli del centro storico, dove il tempo sembra essersi fermato. La vita scorre lenta e genuina, scandita dai ritmi della natura e dalle festività religiose. Tra queste, la festa della Madonna dell'Eterno occupa un posto d'onore nel cuore dei Monte Corvinesi. Ogni anno, ad agosto, il paese si anima di colori, musica e profumi, accogliendo fedeli e visitatori in un'atmosfera di gioia e condivisione. La festa, che affonda le sue radici in un passato lontano, è un'occasione per celebrare la Madonna dell'Eterno, protettrice del paese. Un momento di fede profonda, ma anche di festa e allegria, che rinsalda i legami della comunità e tramanda alle nuove generazioni il valore della tradizione. Per tre giorni, Monte Corvino Rovella si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando eventi religiosi, spettacoli musicali e momenti di intrattenimento per grandi e piccini. La Madonna dell'Eterno Protettrice del popolo La venerazione per la Madonna dell'Eterno è molto sentita a Monte Corvino Rovella. La sua immagine sacra, custodita nella chiesa madre del paese, è oggetto di profonda devozione da parte dei fedeli. Si narra di miracoli e grazie ricevute, tramandate di generazione in generazione, che hanno contribuito ad alimentare la fede e la devozione verso la Madonna. Ogni anno, in occasione della festa, la statua della Madonna dell'Eterno viene portata in processione per le vie del paese, accompagnata da una folla di fedeli in preghiera. Un momento toccante e suggestivo, che unisce l'intera comunità in un unico grande abbraccio di fede. La processione si snoda lentamente tra le strade addobbate a festa, mentre l'aria si riempie del profumo dell'incenso e dei canti religiosi. Un'esperienza spirituale intensa, capace di toccare il cuore anche dei meno devoti. Agosto in festa Un tripudio di colori e tradizioni Dal 17 al 19 agosto, Monte Corvino-Rovella si veste a festa per celebrare la Madonna dell'Eterno. Le strade e le piazze del paese si animano di luci, colori e profumi. Le bancarelle offrono prodotti tipici locali e artigianato tradizionale, mentre i ristoranti propongono menu speciali a base di piatti della cucina campana. L'atmosfera è gioiosa e contagiosa, un invito a lasciarsi trasportare dalla magia della festa. La musica è la vera protagonista della festa, con concerti e spettacoli che si susseguono per tutte e tre le serate. Artisti di strada, bande musicali e cantanti famosi si alternano sul palco, Offrendo un programma ricco e variegato, capace di soddisfare tutti i gusti. Un'occasione unica per vivere a pieno la tradizione e la cultura del Sud Italia. Il programma religioso Momenti di preghiera e devozione La festa della Madonna dell'Eterno non è solo musica e divertimento, ma anche un'occasione importante per vivere la propria fede. Il programma religioso prevede momenti di preghiera e raccoglimento, come la celebrazione delle sante messe e la processione della statua della Madonna per le vie del paese. Momenti intensi e partecipati, che richiamano fedeli da tutta la regione. La Chiesa Madre, cuore pulsante della festa, si riempie di fedeli che si uniscono in preghiera per chiedere la protezione della Madonna. Un'atmosfera di raccoglimento e spiritualità che avvolge l'intero paese, invitando alla riflessione e alla meditazione. Venerdì 17 agosto La musica incontra la tradizione con Itmania. La serata del 17 agosto è dedicata alla musica e al divertimento con lo spettacolo degli Hitmania. Una band locale che ripropone i grandi successi della musica italiana e internazionale, facendo ballare e cantare tutte le generazioni. Un'occasione per trascorrere una serata spensierata all'insegna della buona musica e dell'allegria. La piazza principale del paese si trasforma in una grande pista da ballo al cielo aperto, dove giovani e adulti si scatenano al ritmo delle canzoni più famose di sempre. Un'atmosfera coinvolgente e divertente che contagia tutti i presenti. Un gesto di generosità. L'asta dei doni votivi. Un momento tradizionale della festa della Madonna dell'Eterno è l'asta dei doni votivi. I fedeli, come ringraziamento per le grazie ricevute, offrono oggetti di valore che vengono messi all'asta durante la festa. Il ricavato viene poi devoluto in beneficenza, a sostegno di opere di carità e progetti sociali. Un gesto di generosità e solidarietà, che testimonia il forte legame della comunità con la propria fede. L'asta si svolge in un clima festoso e coinvolgente, con la partecipazione di un banditore che anima la gara tra i partecipanti. Un'occasione per aggiudicarsi oggetti unici e originali, ma soprattutto per contribuire a una buona causa. Sabato 18 agosto, Amedeo Minghi, in Canta, Monte Corvino, Rovella. Il 18 agosto, la festa della Madonna dell'Eterno, raggiunge il suo apice con il concerto di Amedeo Minghi. Un'artista di fama internazionale, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce inconfondibile e le sue canzoni romantiche e intense. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana d'autore. Amedeo Minghi, con la sua sensibilità artistica e la sua presenza scenica, saprà regalare al pubblico di Monte Corvino, Rovella, una serata magica ed emozionante. Le sue canzoni, cariche di poesia e sentimento, accompagneranno i presenti in un viaggio musicale indimenticabile. Per l'occasione, la piazza principale di Monte Corvino, Rovella, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. Le luci, i colori e l'atmosfera magica della festa faranno da cornice al concerto di Amedeo Minghi, creando un'atmosfera unica e suggestiva. Un'esperienza indimenticabile per tutti i presenti. Il pubblico, seduto ai tavolini dei bar o in piedi lungo le strade, potrà godere dello spettacolo a pochi metri dall'artista. Un'occasione unica per ascoltare dal vivo i grandi successi di Amedeo Minghi e lasciarsi trasportare dalle emozioni della sua musica. Durante il concerto, Amedeo Minghi ripercorrerà i momenti più significativi della sua lunga carriera artistica. Dà i suoi primi successi alle canzoni più recenti, passando per i brani che lo hanno consacrato come uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano. Un viaggio musicale intenso ed emozionante che riaccenderà i ricordi e le emozioni legate alle sue canzoni. Vattene e amore, 1950, l'immenso, sono solo alcuni dei brani che Amedeo Minghi proporrà al pubblico di Monte Corvino Rovella. Canzoni che hanno fatto sognare intere generazioni e che continuano ad emozionare ancora oggi. La festa della Madonna dell'Eterno è un'occasione unica per immergersi nella cultura e nella tradizione di Monte Corvino Rovella. Un momento di festa e di condivisione che unisce l'intera comunità in un grande abbraccio di fede e di allegria. Un'esperienza autentica e coinvolgente che rimarrà impressa nel cuore dei visitatori. Durante i giorni della festa, le strade del paese si animano di persone di tutte le età che si ritrovano per festeggiare insieme. Un'occasione per stare insieme, condividere momenti di gioia e rinsaldare i legami di amicizia e di famiglia. La festa della Madonna dell'Eterno vi aspetta a Monte Corvino Rovella dal 17 al 19 agosto. Un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile tra fede, tradizione e divertimento. Lasciatevi conquistare dalla bellezza del borgo, dalla cordialità della sua gente e dalla magia della festa. Scoprite i sapori della cucina locale. Lasciatevi trasportare dalla musica e dall'allegria della festa e vivete momenti di intensa spiritualità. Monte Corvino Rovella, con la sua atmosfera unica e suggestiva, vi conquistate.